Buonasera e benvenuti di Show Must Go Home, il primo show in cui si pensa alla prima puntata speriamo di doverne fare poche, ma non mi fate ingannare dal nome, assolutamente no, qui facciamo lo show a tutti gli effetti, qui come se stessimo, come se fossimo in televisione, qui siamo in televisione. Tony, scusami, che vuoi per contorno? La volta che sei entrata, metti di faccia e fatti anche vedere, prego, siamo in televisione, signori buonasera, siamo... Tony cosa vuoi per contorno? Io sto lavorando. E io sto cucinando. Stava cucinando lei, ma andiamo avanti con lo spettacolo perché signori ci sono tante sorprese, tantissime cose, capite? Perché qua siamo in televisione, siamo, siamo in televisione. Siamo a casa e sbrigati che bisogna portare i cani fuori. Vigano, vaga, non vigano. Ha detto i giorni in cui ho comprato a casa, ma non capite. Mentre ho uscito i fasci fuori un attimo i cani, ah che la porta già sono... Vabbè, neanche non posso uscire. Lasciamo stare qui signori, noi siamo pronti, voi siete pronti e quindi direi a questo punto iniziamo lo show. The show must go home. Sigla! Bentornati, bentornati, ma che bella sigla. Permettetemi di ringraziare ad una, ad una queste ballerine fantastiche. Prego. Tony! 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 Bene, buono. È il bello della diretta, Instagram. Ebbè, perché è pur sempre la diretta, no? Ma questo show, signori, è uno show gentile. È uno show elegante. Pronto! E i rumori della TV. Ah, che poesia, eh? E i rumori della TV. Ma, signori, noi siamo qui per trascorrere insieme qualche minuto di spensa. Pronto! Ancora, ancora. E quindi per stare un po' insieme io con voi. Ma a questo punto, voi sapete che io ho tantissime amicizie con tantissimi artisti, non solo nazionali, ma artisti internazionali. Ma visto il periodo e le distanze che dobbiamo mantenere, noi abbiamo un modo per accorciare queste distanze. Qual è? È il web. Quindi, signori, è con un immenso piacere che il primo artista che ci viene a trovare in questa prima puntata di The Show Must Go Home è lui, pensate, il figlio ufficiale di Elvis Presley. Fantastico figlio di Elvis Presley. Welcome to Naples. Welcome to Italy. Welcome. Benvenuto qui. E con immenso piacere. Insomma, io le faccio qualche domanda. Cosa ne pensa di questo periodo? I want to say, and you want to say, I want to say, I want to say, say. I want to say, say. I want to say, say. Eh, sì, eh, vabbè. E cosa ne penserebbe il suo padre di questo periodo? I want my father, and I want to say, and I want to say. I want to say, say. Ma come? Non lo sa, cioè. La che parla, poi, ma. Vabbè. Senta, nel repertorio di suo padre, sicuramente ci sarà una canzone, adatta al momento, al periodo? And now my father, and I want to say, I want to say, say, one of you. And you, you want to say. Want to say, say, one of you. And you, you want to say, and say, and say, and say, and say, and say, and say. Va bene. E se c'è una canzone, appunto, adatta al periodo, ce la canterebbe? This is my father, and now my father's loving tender, can I have a final love, and I want you, what money you see, and one woman, and one, 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 Two, one, one, two, one, one, two, one, two, one, 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 one. And you, don't want to say. Sì, 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 sì. M'ai mai avuto il mio senso E' un'arrivo Cos'at Manat Capigurato Cos'at E' un'arrivo E' un'arrivo Ave Maria Ave Maria Oh yeah Thank you, this is my Gitterman Brian Russo My plan is Bruna Troisi Yes, my Gitterman negli Stati In Naples My Gitterman Benissimo, grazie mille Al figlio di Elvis Presley Molto bravo, gentilissimo Tra l'altro Zecca, vedi quella cosa che lui tanto piglia Insomma, andiamo avanti E' pronto E' pronto Si, è pronto Andiamo avanti con la cena Si, è tutto preparato No, andiamo avanti La prossima giuro che andrà meglio Te lo giuro Quindi direi di tagliarla qui Andiamo al finale Andiamo con la sigla Vai ragazzi Sigla Ehi, le ballerite sono fesse Vabbè, si sono fesse le ballerite Vabbè, facciola solo, signori Sigla Alla prossima puntata Arrivederci eh Una prossima puntata Alla prossima puntata Lo s 미co